Ragazzoli benvenuti, il 3 settembre, cioè martedì, dopo il torneo delle 23, in live su Twitch, spacchetterò tutti i punti accumulati di questa season, sono quasi 2 milioni, quindi da dare a fare un saluto in live, con tanti bei pronostici ci divertiremo, niente, un bacione, iscrivetevi a questo canale e anche al canale Twitch. Buona visione del video. Oh mio Dio! Raga, non so se sia lui nel dubbio, registro il contenuto e poi controllo se è lui. Porca puttana, ma è impossibile. Come faccio a sapere se sia lui o meno? Dovete andare a vedere l'account, ragazzi. Ah, mica alfa 54, veramente, ah, non penso che sia qui. Per favore. Allora, facciamoci un bel anticipino. Perfetto, il gustatore ci ce l'ho. Cool. Aspettiamo alfa, aspettiamo alfa, va. Purtroppo la cosa brutta, sapete qual è? È che muo che apro la roba di Steam che mi fa vedere quella roba lì, mi laggerà tutto dopo la partita, vaffanculo, laggerà molto, perché... Dovete sapere una cosa? Allora, quando i server si hanno fatto schifo, c'è questo problemino. Ah, è lui veramente? Porca troia, boys! Stiamo contro alfa 54, quello che sta nei vitality. Alla faccia del cazzo. Non pensavo fosse veramente lui onesto. Vabbè, godo. Il tiso dei vitality che si ingula meno gente possibile solo perché non è schillato. Solo perché usavi più il cervello rispetto agli altri due cazzoni. Ok, 100 di boost, dai. Non mi aspettavo di trovare un contenuto adesso. Facile, facile, difendiamo tutto. No, come è ingulata secondo me. Io ci vado lo stesso, ma ne fotte proprio, l'alziamo. Ok, faccio un piccolo fake. Quindi salta, salta, salta. No? Babu. Dai che ti dico, io la rischio un attimo. Fake. Fake. Ok, aspettiamo, aspettiamo. Ancora 100 di boost, vai alfa. Madonna santa! Secondo me non ha fatto una bella giocata qui, per niente, per niente. Godo, l'ho detto, non ha fatto una bella giocata. È traversa però. Ma ragazzi, ma vi rendete conto di che rimbalzo aveva preso il pallone? Porca di quella troia, sto rimbalzo di merda. Ci facciamo un grande kick-off, molto, molto lento. Dai. Che sfigo che ho avuto qui. Credo di poter anticipare lo stesso, lui viene a pushare secondo me. Eccolo, te l'ho detto che sarebbe venuto. E mica sei fesso! Sai che ti ripuscio? No, è troppo alta ora. Ah! Quando ho boosto pusho? Eh, lo sapevo. Non ho boosto, fai un culo. 2-1. C'ho la misera, mannaggia. Non me la sono gestita bene. Allora, facciamoci un grande kick-off. Speriamo di sfondarlo tutto. Dove la buttiamo? A destra. Niente, mi ha completamente estiturato. Ok, ha sbagliato, ce l'ho. 3-1. God, non se l'aspettava. Stavolta ho fatto una pushata un po' ignorante, però ha funzionato. Quindi va bene, le pushate ignoranti vanno sempre bene. Ci facciamo un grande, grande kick-off. Molto, molto lento. Allora, con calma. Vediamo Alpha se fa un bel pre-flip, o se fa un resettino cazzo. Ok. Facile, facile, facile. Ce l'ho. Oddio, che errore. Meno male, meno male, boys. Non può tirare forte. Ragazzi. Questo tiro è veramente terrificante. Però si è preso in entrambi i boost questo tiro, eh. Facciamo io un bello squishy save in fronte. L'avevo indovinata! L'avevo indovinata, cazzo. 3-2. Ci facciamo un grande kick-off. Fino molto, molto, molto veloce, dai. Alla mia destra. Mi fotte. E secondo me o mi fa un ceiling o mi prendo un bel reset. Sealing. Sbagliato. Godo. Ho vinto il contrasto. Lui non può tornare in difesa subito, quindi va direttamente a tirare in porta. Lo sapevo. Non avevo preso il boost. L'ho guardato con lo specchietto retrovisore. E siamo 4-2. Dai cazzo. Ci facciamo un grande kick-off. Vediamo, vediamo, vediamo. Buona per me, buona per me. Abbiamo fatto la stessa cosa con lo videsh. Però mi è riuscita Godo. L'ho alzata troppo, non volevo che si alzasse così tanto. Per me non può più usciare. Non so se ho fatto una bella cosa oppure no. Infatti no. Peccato. 4-3. Questa sarà proprio un regalone. Regalone. Che gift, cazzo. Allora. Facciamogli un fail kick-off. Non si casca, tanto non penso che sia facile. Oh, Godo. Eh, pre-jumpato. Mamma mia, meno male. Fake, 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 fake. Uh, Godo che non stava più in sonico. Goal. Yes, 4 pari. 4 pari. Ci facciamo un grande, grande kick-offino. Molto, molto veloce. Do la boot a destra. Ok, il kick-off l'ho perso. Un boost per fortuna l'ho preso. Niente, ragà. Purtroppo stiamo facendo sempre la stessa cosa. Stai mandando dal muro. Reset mi segna. Avevo difeso questa volta. Fanculo. Niente da fare. 5-4. Ora facciamo un kick-off veloce. Vediamo se funziona da questa parte. No, devo fare lento ancora. Forse lui non prende il boost, però. Il boost è mio, non ti puoi mettere proprio. Ok, raga. Non può pusharmi bene. E invece l'ha fatto. Mi che fesso questo. Lo sa benissimo. Il bastardo. Questo pusha un'altra volta subito. Te lo dico io. Niente, stavolta non ha pushato. Eh, qui mi sono allargato troppo, secondo me. Però l'importante è avere boost per fare un bel airbump. Non credo che sia un bel tiro da parte mia. Meno male, abbia fatto una finta. Per quello non mi deve alzare male. Devo fare la finta sotto, per forza. Buono. Ci facciamo un grande kick-off. Dai, raga. Andiamo a vincere. Kick-off. A destra. La palla rimbalza bene? No. Rimbalzare è buona per lui, secondo me. Anticipo. Ce l'ho. Forse... Non è sempre palo. Non può avanzare troppo, non può avanzare troppo. Tranquillo. Dovrebbe essere semplice per me schivare il suo bump. Ok. Lo devo bumpare, ma che sta tornando palese. Anche se li salta, salto pure io. Non l'ho preso. Dai, l'avevo preso. Maggia, non bene. Ce l'ho. Qua bello anticio. Mi sono anche girato benissimo. Cerco di anticipare io. Ormai troppo tardi. Non può segnare. Non può. Non può. Ci sono io. Non può. A volte li ho preso bene. Fake. Via. Lui pre-jumpa, vero? Sì, ha pre-jumpato. Occhio al pinch. E le importa, le importa il pinch. Lo dico io. L'ho detto che le importa. Ho fatto un bel contrastino. Abbiamo 50 secondi. Me la prendo con calma, perché lui non penso che uscirà. Ragà, me la prendo con calma. Devo far passare qualche secondino. Ora li puscia. Seguo il metto a piangere. Ok. Ok, ancora. Non credo di avere tante possibilità. Quindi tiro direttamente alto e via. Vediamo se dove la tira lui. Mmm, mica è fesso questo. Se la controlla così. Male. Godo. 30 secondi. La vedo molto, molto, molto male. Ecco qua. Lo dico, la vedo male. Sono un coglione. Cioè, è la classica pushara ignorante che provo ogni tanto. Visto che questa partita l'ho provato soltanto un paio di volte. Nemmeno. Pensavo fosse una buona occasione. Invece no. 19 secondi. Speriamo bene. Ok. Non ci credo. Ok, ragà. Cioè, veramente. Stava per sculare tantissimo questo. Ci facciamo un kickoff lentissimo. Tanto questo qua non me lo leggerà mai. Ve l'ho detto che non me lo legge. Ve l'ho detto. Questa gli spara una mina in porta e goal. Dimmi che è goal che impazzisco. Niente. Devo prendere il boost. Ok, l'ho bumpato, raga. Ho pochi secondi per gestirmi tutto al meglio. Devo fare un airbump per forza. Anzi, no, sai che c'è? Io lo faccio... Baffanculo! Alpha non ha molto boost. Vado io. Non può pushare il palese. Ok, supplementari. Ah, no. Ho preso goal. Ah, ho quei supplementari. Kick off fino alla mia destra. Qui, ragazzi, se li vado al muro sono abbastanza cazzi per me. Ho sbagliato. L'ho tirata talmente lenta che lui la può controllare di nuovo. Questo la puscia. Ok. Se la prendo io, è GG per me. Però mi sa che mi anticipa. Esatto. È leggermente out, secondo me. Ha pushato. Peccato, 7 a 6. Bella partita comunque. Bella, bella, bella. Onesto. S'era molto combattuta. La verità, ho giocato un po' di merda in difesa. Questa lettura qui non la dovevo sbagliare. Però mi ha proprio anticipato. Cioè, la lettura in realtà era giusta. Solo che sono stato lento a girarmi. Ho preso l'incontro tempo. Un bacione e forza a Benevento. Bellissima partita. Oh, rivincita, boys. E a sto punto un bel contenutone che non te lo fai un'altra volta. Un altro contenutone, ma adesso, ragazzi, devi vincere. Rivincita contro Alfa 54. Dai cazzo. Mo non si perde. Anche se, secondo me, mi batte ancora più di prima. Perché nell'ultima parte della scorsa partita ha giocato mille volte meglio di me. Al inizio sta prendendo mezzo cazzone. Poi gli inizierà a giocare molto meglio, infatti. Per me ora mi domina proprio. Ha capito come giocare contro di me. Questo è troppo intelligente come player. Non me l'aspettavo minimamente questa cosa, eh. L'ho bumpato per buttarlo. Mentalmente, non nel senso. Ma! Vabbè. Per me fa un reset. No, di merda. Ok, perfetto. Che dici? Me la regali? Dai, l'ha controllata di merda. Questa la dovevo pushare prima. Non credo che possa fare una grande giocata. Ecco, la pangulo. L'aveva perso il pallone. Dovevo pushare prima. Questo l'aveva perso. L'aveva perso, ragazzi. Il pallone l'ha buttato nella merda. Sono stato lentissimo. Facciamo un grande kickoff. Diamo do la meno. A sinistra, se me lo vinco io. A sinistra l'ho pure perso. No, però almeno ho preso io la palla di busto, ragazzi. Questa è una palla buonissima per me. Lui lo sapeva. Infatti ha fatto un pre-jump del cazzo. Raga, l'ho bumpato. Dai. L'ho bumpato. Che palle. Non bene, purtroppo. Non credo che gli possa fare un grande pre-flip. Dai. Esatto. Infatti non l'ha manco provato. Fuori, fuori, fuori. Volevo bumpare io, ragazzi. Abbiamo preso col così come a dei fessi. Sì, 2-0. Peccato, boys. Peccato. Mi si può rimontare comunque. Questo è bravo, bravo. Ci facciamo un grande kickoff. Devo cambiare stile di gioco perché lui ha imparato il mio e mi sta completamente distruggendo. Non pre-jumpo da dieci anni, quindi mi conviene. Forse non mi conviene pre-jumpare. Ok. Ok. Ma raga, qui ho avuto una freddezza assurda nel rimanere firmo. Non so se avete visto, sono rimasto firmo aspettando il suo tiro. Non ho pushato prima, sennò avrei perso il contrasto. Qui sono stato veramente OP. Mamma mia. Sono stati bravi, bravi. Devo fare un kickoff lentissimo. Bello il kickoff lento, però dopo non lo devo fare. Questo qua sono stato abituato. Devo fare un airbump. Cazzo, lo squishy save. Eh, lo squishy save. Fa un culo. Io abrio questo, mi argina. Ma come cazzo faccio? Ma sono cazzi, ragazzi. Annaggia. Facciamo un grande kickoffino. Faccio lento di nuovo questi cazzi. Ok, lo aveva predictato. Non so se ho visto che ha fatto un altro kickoff. Non penso di riuscire a segnare. Ok, meno male. 3 a 2. A volte mi sbaglio questo. 3 a 2. Ci facciamo un grande kickoff. Dai, raga. Dai, 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 dai. Ok. Non è andata per niente male, anche se può sembrare. Per niente, per cui non può fare una capocchia. Visto un tocco un po' laggoso, tranquilli. Hanno sistemato i server. Sì, sì, sto cazzo. Guarderà l'allentatore col tocco per fare delle cazze del successo. Pechino. Fatto un bel contrasto. Non credo che la palla rimbalzi bassa. Coda rimbalziata alta. Faccio una finta. Questo me la regala. A posto, ragazzi, me la regalata. Lui non verrà mai a pushare. Va a prendere il bus dietro. Io, sinceramente, faccio una finta di airbump. In realtà, devo fare lo squishy 6. Non male che me ne sono accorto. Ho pre-jumpato. Mi sono messo sotto. Mi stava distruggendo con quel pre-jump. Pensavo andò a fare lo squishy 6. E là, in quel caso, lo avrei inculato in un'altra maniera. Ma che cazzo? Ha avuto i riflessi incredibili. Mi ha bampato per sbaglio. Io non ci credo. Stavolta, purtroppo, gli andrà di culo. Infatti, ancora siamo senza boost. Noi, devo per forza riuscire a sculare in questa difesa. Purtroppo, lui prenderà comunque il boost al centrocampo prima di me. Sono pure morto, vaffanculo. Dove spawno? Sai che ti dico? Io mi rischio di lo squishy 7 qua. Ah, traversa culo, mamma schiatta. Fangulo. Allora. Il coffino a destra. Non mi è andata bene questa. E invece sì, godo. Vado da solo, vado da solo. Non mi interessa questo push-up ora. Dov'è? Dai, che cazzo l'aveva visto? Andavo diversamente. Sono Pippa, sono Pippa. Ho sbagliato. Devo guardare meglio intorno prima di fare questa cazzata. Non credo abbia un reset ora da fare. Molto bene, molto bene, molto bene. Se questo più fa giocatori in merda e più ci casco come un cazzone, è incredibile. Sinceramente mi aspettavo qualcosa. L'hai ricontrollata qua, ve lo dico io. Detto, sto stronzo, devo bampare. Non l'ho preso. Non l'ho preso. Non l'ho lucky. Lo prendo io il boost, non mi rompe i coglioni. Eh, che cazzo, cioè. C'è un limite a tutto, dai. Tranne la mia skill. Bello questo pallone. È buono per metterlo piano piano alto, così questo fa lo squish e lo liscia. Ve l'ho detto. Raga, qui sono stato un genio. Qui sono stato un genio. Ho visto andare con lo squish save. Ho detto, un po' è tiro alta, così non può prenderla con lo squish save. La cosa brutta dello squish è che puoi coprire solo la porta sopra e non copri un cazzo. La sabbara ingazza a fine partita, visto che è continuo per i tube. Aspettiamo la off, andiamo un pecca. Uh, mi è screcato. Un po' ho problemi col pollice, non premo più la X bene. Pur via quando ho fatto colliscio in porti, ora volevo premere la X. Però non lo so, il mio pollice non risponde. Sarà che sto invecchiando, ragazzi. Non lo so, eppure io penso a questo il pad vecchio che premo, questo è nuovo. Col cazzo, cioè sto proprio io che non premo la X. Sono un coglionazzo. 5 pari, dai. Schippiamo? Ok, ci facciamo un grande kickoff. Vediamo se alfa 54 riesce a farsi inculare al kickoff. Ho sbagliato il kickoff, ho un lucky. Mi ha completamente distrutto qui. Anche se ho vinto il 50, lui ha preso le vale che busto, quindi proprio inculata a merda. Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato, ho sbagliato. Io prendo il busto a 100, lui va a prendere quello lì. Lì va sotto, va sotto. Ok. È costretto a tornare dietro. Io me la prendo con molta calma. Credo di fare un bel air bump da qui. Sempre finta sotto. No, non mi dica gol. Me lo merito. Ho pre-jumpato, ero troppo lontano. Lasciami il busto. Ah, niente. Troppo col da lui ce l'aveva detto lui ormai. Faccio finta di pre-jumpare così tira subito. Ero pronto a riandare, ma non sono riuscito in tempo. Dovevo fare un singolo jump, non il doppio, perché la finita la devi fare col singolo. Allora, ci facciamo un kick-off. Destra. Via, lasciami il busto stavolta. Non prendere il pallone. Dai! Ho pure bampato, ah. È gollo, palo. 7 a 6. Siamo stati intelligenti qui a metterci davanti comunque. Siamo stati molto, molto intelligenti e anche un po' pazzi onestamente. Kick-off lento. Dai! Mi ha bampato lontano. Non vale. Fanculo. Non penso sia col diretto. Non vuole bampare il coglione. Tanto non ce l'avranno manco se fosse stato in porta, non è rischiato lo stesso. È una scusa, tranquilli. No, però è vero. Faccio finta di pre-jumpare. Questo viene. No! Qua mi ha proprio vinculato, raga. Qui mi ha proprio messo nel culo. È bella. Mamma mia, ragazzi. Questa, mamma mia, qua mi ha proprio... Alla fine è proprio distrutto. Faccio le forze a benedì. Spero di beccarlo comunque. Bel game. Bene. Busta 100. Faccio un piccolo fake. Tanto questa è quella di controllo. Basta. Raga, ma che cazzo di quello ho fatto? Ma che controllo era questo? Mamma mia, l'ho ucciso proprio.